Bene, ben ritrovati in una nuova puntata in compagnia dell'amico Eugenio Orcolani. Ciao Eugenio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come potete vedere, oggi non è in diretta, ma giusto per un test tecnico, diciamo, perché ho cambiato la location, quindi volevo un po' testare la questione connessione. Se tutto va bene... Non sembri più un pentito di mafia chiuso in uno scantinato. Bene, bene. È vero, no, infatti era abbastanza brutto quello sfondo bianco, dai, quindi... Non so, la connessione va bene, Eugenio? Mi vedi abbastanza bene? Ti vedo a posto. Sì, sì. Perfetto. Allora, quindi, vabbè, poi vediamo durante la puntata, chiaramente. Allora, puntata di oggi parla quindi del B-movie, non solo italiano, ma parliamo un po' particolarmente del cinema B-movie horror italiano, ma poi comunque parleremo anche un po' del cinema estero. Anche perché stanno uscendo e sono uscite parecchie edizioni a cui Eugenio ha lavorato, quindi che fanno parte anche di questo genere, quindi di questo periodo storico, gli anni Ottanta. E niente, lascio a te la parola, Eugenio. Dai, iniziamo subito quindi con l'argomento B-movie anni Ottanta. Va bene. Sì, stanno uscendo... Vabbè, gli anni Ottanta hanno sempre avuto, come dire, un posto speciale nel cuore dei fan dell'orrore, dell'orrore, del cinema horror. Soprattutto per il cinema americano è il decennio dello slasher. Lo sappiamo anche se lo slasher è precedente, nasce negli anni Settanta e poi ha radici antiche, addirittura si può parlare di, come dire, uno slasher rionale anche tirando in ballo a Alfred Hitchcock, con Psycho e poi, insomma, successivamente anche altri film. Però in Italia gli anni Ottanta sono anni un po' complicati, nel senso che alla fine degli anni Settanta si parla sempre di quando arriva la crisi nel cinema italiano, chi individua la fine degli anni Settanta, chi i primi anni Settanta. Poi bisogna stare attenti che identificare un momento in cui è iniziata la crisi non vuol dire necessariamente andare a registrare un calo qualitativo o anche produttivo, cioè quantitativo, ma vuol dire capire cosa succede all'industria, cosa inizia a sgretolarsi all'interno delle maglie dell'industria cinematografica italiana e poi gli effetti si vedranno anche a distanza di tempo. Ci sono due sentenze della Corte di Cassazione risalenti al 1972 e poi al 1970, vada a memoria, che è Dovenia se mi sbaglio di un anno, del 1977 o 78, che liberano sostanzialmente le reti private. E quindi inizia quella che è il far west dei canali regionali, delle reti televisive private, che iniziano a mandare in onda, riempiono il palinsesto di decine e centinaia di film, tenendo presente che fino a poco tempo prima la RAI mandava in onda uno o due film al giorno. Spesso queste reti televisive acquistavano interi archivi, pacchetti di film, quei film che prima si potevano vedere solo al cinema e quindi vediamo iniettate in televisione le commedie sexy, gli horror, i western e tutti quei generi popolari del nostro cinema. Questo legato poi all'incapacità del cinema italiano di reagire dinanzi all'ascesa, alla nascita del blockbuster moderno, quello americano, non esisteva ancora, non era stato ancora coniato questo termine, o perlomeno non veniva usato in riferimento a questo tipo di cinema, però di fatti con lo squalo prima, anche se poi possiamo individuare nel cinema di Arwin Allen, nel cinema catastrofico di Arwin Allen, una sorta di, come dire, anche lì, una sorta di blockbuster embrionale, insomma io penso a film come L'avventura del Poseidon o Inferno di Cristallo, che The Tower in Inferno, John Gillerman, questi film in qualche modo anticipavano sia una certa maniera di fare cinema da parte degli modiani, ma anche andavano a soddisfare un bisogno crescente di un cinema di puro intrattenimento, teniamo presente che insomma ha dominato la New Hollywood a partire dalla metà degli anni Sessanta fino a, diciamo, poco dopo l'inizio della seconda metà degli anni Settanta, poco dopo, diciamo, dal Settantacinque e il Settantasei, questo periodo è dominato dalla New Hollywood, quindi temi, temi, registri, attori sensibili a il clima sociale e politico, a un cinema che in qualche modo raccontava sia l'intimità ma anche i grandi temi sociali, spesso con una vera sperimentale, con una certa, un certo fare ruvido e quindi insomma prima i film a prodotti da Aaron Allen e anche altri naturalmente e poi dopo soprattutto lo squalo di Spielberg, poi a cui si aggiungerà poco dopo anche Guerre Stellari di Lucas, insomma danno il via al new blockbuster, al fenomeno dei, quindi quelle che fondamentalmente sono dei B-movie fatti dagli studios, cioè dei film che prima avrebbe fatto Roger Corman con un terzo dei soldi, adesso li fanno le grandi major americane, ovviamente. Che poi Piragna ha fatto Piragna, che il B-B-movie possiamo dire quindi allo squalo. Esatto, Piragna era una reazione allo squalo, ma Corman già stava facendo ovviamente film per il circuito dei drive-in da vent'anni e quindi lo squalo Guerre Stellari ha messo in crisi sia il cinema indipendente di genere americano che anche alcuni mercati europei, tra cui il nostro, perché se prima col cinema d'azione, col western, col poliziesco, anche con l'horror, noi potevamo tenere il passo e addirittura talvolta anche superare il prodotto americano perché alla fine si trattava di effetti speciali più abbordabili, avevamo, ricordiamoci, insomma abbiamo anche esportato dei grandi effettisti che a Lorambaldi in primis e poi anche altri perché comunque eravamo portati sicuramente a creare... avevamo una predisposizione a inventare effetti speciali, Giannetto De Rossi, Trani e tanti altri, però con questa nuova tipologia di film avevamo delle difficoltà, non avevamo i mezzi, questo unito alla crisi che stava creando la televisione che poi questa cosa, il problema televisivo si andrà in cancrinire sempre di più con l'ingresso della tv generalista berlusconiana, il cinema italiano reagisce in più maniere. Da una parte quelle realtà più piccole, quindi il cinema indipendente con meno mezzi, reagisce dando al pubblico ciò che negli americani nella televisione potevano offrire, ovvero temi morbosi, temi sempre più forti, violenza, nudità, poi ricordiamoci nel 79 il porno viene legalizzato in Italia, per cui se già ci sono stati prima ovviamente, ma solo per il mercato estero, adesso troviamo film con parecchi inserti hard anche in Italia. Quindi c'è questa reazione, troviamo i massaccesi, i pannaccio, pannacciò come dir si voglia, anche lui spesso cambiava idea su come pronunciare il suo cognome, troviamo appunto poi l'ascesa di registi come Claudio Fragasso, Bruno Mattei, ovviamente tutte persone già lavoravano e già inserite all'interno dell'ambiente, però hanno più spazio, hanno più spazio per creare, hanno, cioè in qualche modo c'è un riciclo, perché se molti registi nati artisticamente negli anni 50 e 60, o anche prima in alcuni casi, penso a registi come Giulio Petroni, a Fernando Di Leo, Alberto De Martino, Romolo Guerrieri, Mario Caiano, Vittorio Sindoni e tanti altri, si ritrovano in difficoltà perché si ritrovano a dover lavorare con budget sempre più piccoli, dei sottogeneri o dei generi che venivano imposti e che non interessavano alla loro sensibilità, perché per quanto loro non sono mai riusciti questi registi a slegarsi completamente dalle logiche del mercato e dalle esigenze del mercato, avevano comunque spazio di manovra, potevano scegliere all'interno di quello spazio circoscritto, a un certo punto non possono più scegliere. E molti registi prima ci provano, alcuni lasciano perdere, dovevano tra l'altro consegnare questi film in tempi ridottissimi, ovviamente per attutire il più possibile i costi, per cui Romolo Guerrieri racconta che fino alla fine degli anni 70 un film lo realizzava in 8 settimane, 9 settimane, anche 10 talvolta per i film più grossi, penso a salvo d'acquisto o altri film, e all'improvviso gli veniva chiesto di realizzare un film in 2 settimane, 10 giorni addirittura. Lui mi ha raccontato che gli fu offerto un film che aveva anche una discreta sceneggiatura, però il dictatera lo devi fare in 10 giorni. Quindi cambia completamente e c'è un riciclo generazionale, cioè alcuni registi lasciano stare. Alberto De Martino ci prova, realizza due o tre film, l'ultimo tra l'altro disconosce e neanche lo firma col proprio nome. Altri si adeguano, ma cala la qualità del loro prodotto, non riescono a iniettare quella forza vitale artistica creativa che avevano i loro film precedenti, penso a Umberto Lenzi. Alcuni ci sono delle eccezioni, alcuni, e questo mentre nel frattempo registi più piccoli che erano abituati a lavorare con budget ridotti, che però lavoravano in coni d'ombra, non avevano, come dire, una posizione privilegiata all'interno dell'industria. All'improvviso si ritrovano, come direbbero gli americani, upgradati, si ritrovano a lavorare di più, avere più opportunità. Quindi c'è una sorta di, si potrebbe definire quale selezione darwiniana. Una selezione darwiniana viene messa in moto e i registi più anziani, più i veterani, che avevano vissuto l'epoca d'oro anche del nostro cinema di genere, che è degli anni Sessanta, si ritrovano estromessi da un mercato che ha delle logiche nuove, che loro non possono soddisfare, ma che possono soddisfare quelli più piccoli, che prima stavano in voi. Quindi c'è questo riciclo. Allo stesso tempo ci sono anche dei registi, stavo per dire prima, che tutto sommato riescono a trovare una loro poetica all'interno di questo sistema. Cioè riescono ad adattarsi bene. Lucio Fulci, per esempio, che proprio in questi anni realizza dei film tra i più famosi della sua filmografia, a partire da Zombie 2 nel 79, poi Paura nella Città dei Morti i Venti, l'Aldilaco, la Villa accanto al Cimitero. Non durerà tantissimo anche per Fulci, che poi si troverà a dover pure lui scendere a tanti, forse troppi, compromessi. Poi è ovvio che, sai, molti dicono, ah però anche quando Alice ruppe lo specchio è bello, o anche il miele del diavolo ha delle cose interessanti. Sì. Manhattan Bailey. Però stiamo parlando comunque di film fatti come diceva lui, lo cito testualmente, per motivi alimentari. Comunque sì, sono compromessi, anche se nel caso di Fulci è fin dall'inizio un compromesso, già a partire da fine degli anni 70. Zombie 2 è il film che lo tira fuori da una grande crisi. No, la storia l'abbiamo anche detta proprio su questi schermi che il film fu fatto da Castellari, Castellari non interessato al genere, passò la palla a Fulci. Un altro regista che si riesce a trovare una sua dimensione all'interno comunque di questa realtà problematica, è Antonio Margheriti, Anthony M. Dawson, e per anni c'è stata questa grande confusione tra lui e Anthony Dawson, che è quello del suo vero nome, l'attore inglese che ha lavorato anche in Italia, famoso per i film di James Bond con Sean Connery. Anthony Dawson, ovvero Anthony M. Dawson, Antonio Margheriti, anche lui trova con il produttore Gianfranco Courmanjan una sua dimensione con i film bellici, storie d'avventura, nella giungla, Vietnam Movie, penso all'ultimo cacciatore, il precedente... Comando Leopard, sì, Erwin C. Dietrich, poi altri, insomma ne fa veramente tanti, e quasi tutti film diciamo di esotici, avventurosi e così via. su quattordici film, insomma, quattro mi viene in mente, non sono, non rientrano all'interno di questo filone, Car Crash, insomma, e poco altro. O anche Alien degli Abissi, insomma, che è ovviamente un ripoff di Alien. Quindi, quindi sì, è un momento, è un momento particolare. Quello che accomuna tutti i registi e tutte le varie france che ho appena elencato, la cosa che li accomuna tutti è che la maggior parte lavorano per il mercato estero, cioè il mercato italiano diventa irrisorio. Tant'è vero che troviamo tantissimi film, penso ai film, alcuni film di Tonino Ricci, penso per esempio ad alcuni film di Bergonzelli, penso neanche escono in Italia o anche di De Angelis o se escono escono per questioni burocratiche, di visto censura, per poi poter essere trasmessi in televisione, ma fondamentalmente hanno una reale distribuzione. Addirittura tra gli ultimi film di Lenzi ce ne sono alcuni che non sono mai proprio distribuiti, neanche un giorno, nelle sale cinematografiche italiane. Vengono esportati questi film, anche il mercato statunitense che era stato uno dei mercati di riferimento per il cinema italiano viene meno o comunque è meno importante, conta di più il sud-est asiatico, il sud-america, quelli che un tempo venivano chiamati i mercati del terzo mondo. Quindi noi insomma cercavamo perlomeno di soddisfare le esigenze di quei mercati, quelle esigenze erano vedere film che potevano assomigliare il più possibile al prodotto americano di successo. A Brambo, al 1987 Fuga a New York, I guerrieri della notte e così via, Mad Max e quindi noi imitiamo, imitiamo delle volte molto bene, imitiamo delle volte meno bene, delle volte creiamo dei libri di assurdi, anche molto godibili, certamente nonostante i grandi successi, alcuni grandi successi, e nonostante alcuni film estremamente godibili, se non addirittura buoni, di buona fattura, è un mercato, quello italiano, è un'industria, una non-industria, meno florida, meno possibilitata a sperimentare, a muoversi con libertà e quindi di creare dei nuovi fenomeni, cioè con tutto quello che avviene in questo decennio, non riusciamo a creare dei fenomeni mondiali come quello che poi insomma conosciamo come spaghetti western, non riusciamo a creare come dire, delle realtà che ci consentono di reinventare il genere o il filone, i successi quasi sempre sono dei singoli, è il successo di Massaccesi, il successo di Castellari, il successo di Lamberto Bava e così via. Questo, quindi è un momento interessante dove si è fatto un cinema effettivamente molto godibile, come dire, sono gli ultimi fuochi, probabilmente l'ultimo filone realmente italiano, autoctono è il Cannibal Movie, il cinema cannibalico, che è l'ultimo che è slegato dalle logiche del mercato estero, ma che è una roba completamente nostra, anche se poi va beh a radici nel cinema avventuroso, anche seriale degli anni 50 americano, vabbè, però questo si sa, tutto è unito, insomma, nulla è rieinventato, è tutto digerito e riproposto in un'altra maniera, ma insomma, sì, rieinventato, ma nulla è 100% originale, quindi, però il Cannibalico è l'ultimo fenomeno veramente autoctono, diciamo, italiano. Oltre, il cinema cannibalico, anche il cinema, forse, lo zombie movie, chiaramente dopo il successo di Romero, anche in Italia, abbiamo appunto fatto uscire Zombie 2, qui nello sfondo c'è, ad esempio, le notti del terrore, infatti poi vorrei anche parlare con te di questo film, visto che è inizio i primi anni 80 e uscirà anche un'edizione o un video a cui hai lavorato, quindi ne parleremo tra pochissimo, però appunto anche il cinema dello zombie, lo zombie movie, ha avuto il suo periodo d'oro, diciamo, nei primi anni 80 per il cinema italiano, sbaglio? Assolutamente, beh, poi ricordiamoci che Don of the Dead, zombie di Romero, è anche cosa nostra, noi avevamo anche partecipato precedentemente a un film molto bello di Og Grau, una coproduzione in cui c'è anche dentro l'Italia che non si deve propanare il sonno dei morti, molto bello, sì, che è un gran film, sì, c'è l'epoca d'oro dello zombie movie, molti esempi tolti, beh, io faccio fatica a considerare i zombie di quella villa accanto, cioè il dottor Freudstein di quella villa accanto al cimitero o i zombie che appaiono alla fine di E tu vivrai nel terrore come appartenenti al filone, cioè sono degli zombie, dei non morti all'interno di un film che non è uno zombie movie fondamentalmente. Un cameo, diciamo. Sì, sono camei zombie, diciamo, sì, però sì, vengono fatti tanti film, zombie holocaust, di Marino Girola, Milanootte del terrore di Bianchi, poi vabbè, molto più in là raggiungeremo, come dire, una delle punte più alte con della morte dell'amore di Soavi, che è un po' per tanti versi, il canto del cigno, del cinema di genere, sicuramente il cinema horror italiano. Sì, sicuramente lo zombie movie è un filone in cui siamo stati bravi a, come dire, ci siamo fatti notare, però vediamo molti limiti, infatti Andrea Bianchi all'interno del suo film per l'appunto Burial Ground deve compensare in qualche modo, no? E quindi c'è un'atmosfera pruriginosa, c'è nudo, c'è un compiacimento morboso nei confronti, no? In alcune situazioni, alcune dinamiche tra i personaggi. Deve essere... Gli effetti speciali sono anche abbastanza scarsi comunque di questo film. Sì? dico, gli effetti speciali sono anche abbastanza scarsi rispetto ad altri... Devo dire, con quello che avevano, no? Alla fine una location della Parisi e dintorni, non ci sono grossi nomi, parlo nel cast, cioè non ci sono nomi costosi e devo dire gli effetti speciali con quello che avevano a disposizione non sono malbaggi, funzionano, no? Questa specie di zombie di terracotta, però... Però è... Sì, è un cinema che comunque si ritrova a dover compensare, no? A dover dare qualcos'altro a soddisfare come dire, le curiosità o la voglia più pruriginosa del pubblico. Le notti del terrore per tanti versi è un... Non lo so, cioè, non sono mai stati realizzati inserti hard per quel film, però sembra qua lo vedi, dici, questo potrebbe avere avuto degli inserti hard, cioè, c'è quell'atmosfera lì alla bianchi proprio, no? C'è quella... C'è quella sensazione vedendolo di... Linoleum appiccicoso, no? Da... Da... Da cinema a luci rosse, cioè, c'è quell'atmosfera lì, no? Che trovi in film come Malabimba, La moglie di mio padre, altri film bianchi, c'è sempre quel... quel... tocco morboso, però sì, sì, lo zombie movie, ma troviamo appunto il Vietnam movie che ho citato prima, il post-apocalittico, ne abbiamo fatti tantissimi, anno 2020, Clariatore del Futuro, i guerrieri dell'anno 2072, 1990, i guerrieri del Bronx, Robo War, eh? Robo War di Fagasso, Robo War, delirio, delirio pazzesco, cioè, abbiamo toccato tutti i generi possibili, con appunto, come dicevo prima, tanto cinema divertente, tanto cinema, come dire, spontaneo, di pancia, anche molto apprezzabile da un punto di vista realizzativo, perché poi c'è questa tendenza, no? I vari, non c'entrano nulla tra di loro, però i vari Fragasso, Bianchi, Mattei, anche Massacisi, sempre a sminuirli, no? Alcuni di questi hanno addirittura il nomignolo di Ledwood, italiano, eccetera, in realtà sono cazzate, perché se uno sa come viene realizzato un film e le difficoltà legate, quanto è difficile fare un film, perché è veramente difficile, e vedi i budget e poi i risultati, cioè, nel senso, è un cinema ancora apprezzabile, è un cinema fatto da tecnici che sanno quello che stanno facendo e che devono lavorare con veramente una preghiera e un po' di saliva, quindi, insomma, anche perché se fosse proprio così semplice poi essere distribuiti in tutto il mondo ed essere ricordati a distanza di 40, 45 anni, allora perché gli indipendenti adesso italiani non lo stanno facendo quel cinema lì, per cui evidentemente non è così semplice e raggiungere quei risultati. Sì, sì, sì. Comunque, visto che ci siamo, dato che comunque stavamo parlando di Le Notti del Terrore, io ci metterei già in mezzo l'edizione che uscirà a breve per la 88 Films, giusto? Le Notti del Terrore? Sì. Bravo, sì. Allora, questa però non uscirà in 4K, uscirà soltanto in Blu-ray o sbaglio? Perché adesso mi sto confondendo con altri titoli che stanno riuscire a breve. Io credo che tu forse ti sbagli. Mi sbaglio? Forse ti sbagli. Ma forse esci in 4K. Perché non vorrei... Forse esci in 4K? Dovrebbe uscire in 4K. Eh, sì, infatti mi stavo confondendo con un altro titolo. E mo' ti do conferma, così diretta si fa per dire... Devo dire fesseria. Mo' te lo dico, se lo trovo. Sì, perché mi ricordavo che c'era quell'annuncio con tre titoli tra cui due in 4K e uno era in Blu-ray che però non era un film italiano. Sì. Quindi se non sbagliare... Allora, guarda, dico subito. L'A.T.A. Quims ieri ha così, ha fatto veramente il buono e il cattivo tempo. Eh? Allora, Le Notte del Terrore sì, sì, no, esce in 4K è un combo pack Blu-ray 4K. Perfetto. Con audio italiano, quindi... Con audio italiano. Non ce l'ho più. Vabbè, già questa edizione qua della Severin aveva già diversi contenuti speciali, però l'edizione della E.T.A. a cui hai partecipato ha diversi contenuti extra, varie interviste, giusto? Allora, per Le Notte del Terrore abbiamo un'intervista con... Allora, partiamo dalla punta di diamante, no? Dal dal pezzo forte. Abbiamo un un'intervista con Peter Bark Pietro Barzocchini. Ok, il bambino... Sì. Ok. Il chiamiamolo così, il bambino il figlio della Giordano che ho intervistato alla location del film, cioè a Villa Parisi. Villa Parisi. Quindi lo vediamo anche muoversi all'interno della villa. Poi abbiamo un'intervista a Pierpaolo De Santis che alcuni potrebbero riconoscere perché io Pierpaolo quando posso, dato che è molto interessante, ce lo infilo. Lui è il CEO della Fourfly Records e qui ci parla della carriera di Berto Pisano che è il compositore delle Hotel. E poi un commento audio a cui ho partecipato anch'io è in lingua inglese dove sono raggiunto anche da Troy Howard e Nathaniel Thompson. Quindi questo è il pacchetto per le domenze da parte mia. Non lo so perché io delle volte sono io a occuparmi anche del materiale d'archivio. Delle volte no. Dipende. In questo caso no. Io mi sono occupato solo dei contenuti originali di tutto quello che è d'archivio o no. Per cui non so cos'altro ci sia. Ok. Quindi comunque se ne parla per i primi mesi del 2023. Yes. Ok. Uscirà insieme a rimanendo sempre in tema di zombie e sempre siamo là nel 1980 uscirà in contemporanea con Zombie Holocaust. Ok. Sì. Sempre in 4K. Mentre qui cosa abbiamo come extra Allora qua abbiamo qui abbiamo un'intervista al montatore del film Alberto Moriani tra l'altro questa intervista qui è la è la prima intervista mai fatta a Moriani. Ok. Quindi l'ho cercato per tetti proprio l'ho trovato e l'ho intervistato. poi 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 abbiamo su zombie holocaust ah no abbiamo una cosa di cui sono molto molto fiero una cosa a cui tengo molto questa questa è una lunga intervista stiamo intorno ai 40 45 minuti di intervista a Giacomo Dell'Orso eh Giacomo Dell'Orso è il co-compositore del film insieme a Nico Fidenco ma è una figura molto importante per gli amanti del so che sono tanti gli amanti del delle colonne sonore italiane Giacomo Dell'Orso è stato un collaboratore eh di Nico Fidenco per tanti anni ovviamente è stato anche un compositore per conto proprio eh è stato anche un aranciatore e direttore d'orchestra per Carlo ha lavorato con Carlo Sabina ha partecipato anche con Ennio Morricone a a dei progetti e ovviamente ha lavorato spesso con sua moglie che è che è la moglie Giacomo Dell'Orso eh chi è? Edda Dell'Orso che è la famosa Edda Dell'Orso diciamo una volta il West è la voce è la voce di Morricone è la voce femminile di Morricone viene in vista c'è anche Edda Dell'Orso che a un certo punto raggiunge il marito Giacomo non sta bene da tanti anni ehm ha avuto vari interventi e insomma ha avuto tanti problemi di salute però è lucidissimo e questa intervista è da quello che so è l'unica intervista a video a a Giacomo Dell'Orso anzi no sto dicendo una cazzata perché in realtà io l'ho intervistato video ehm io però lì ehm insomma avevo un ruolo marginale un'intervista per eh video per l'infermiera di mio padre di Mario Bianchi eh però aveva un'intervista molto breve devo dire neanche questo granché invece questa è un'intervista seria un'intervista lunga su tutta la sua carriera eh la sua collaborazione con Fidenco il rapporto con la moglie ed è una cosa magari interesserà a pochi ehm sarò sincero però le persone che a cui interessa una roba del gene saranno felicissime io sono sicuro perché è veramente un un documento importante Giacomo Dell'Orso ha tanto da dire ed è molto interessante quello che che ci racconta poi oltre a oltre a ehm Giacomo Dell'Orso con Edda ehm poi abbiamo sì Alberto Moriani e abbiamo anche qualcun altro ah sì nell'intervista è una è un doppio è un fichuret con due interviste insieme a Moriani eh c'è anche Castellari ah ok eh perché Marino Girolami a proposito di parentele unioni eccetera è il papà eh quindi c'è questo questo fichuret Moriani soprattutto con un intervento di Castellari e poi questo a lungo questo lungo fichuret con Giacomo Dell'Orso per cui quindi un bel comparto extra no dico quindi è un bel comparto extra però per chi per chi è amante collezionista io sono tra quei collezionisti che hanno anche altre altre edizioni di questo film ma di tanti altri film eh avremo anche gli stessi extra vecchi della 88 Films sul disco 4k cioè sull'edizione 4k o dobbiamo tenercele tutte e due non lo so non lo so per un motivo non lo so che eh quando loro fecero uscire la prima edizione di zombie holocaust io ancora non quelle erano proprio tra le prime uscite della 88 anche le notti del terrore loro avevano già avevano già avevano già fatto uscire peraltro avevano la tratta italiana con i sottotitoli forzati la nuova edizione penso che avrei i sottotitoli eh facoltativi giusto? sì non lo sai sì sì ok eh non io non lavoravo per la 88 Films per cui non so neanche cosa ci sia in quei in quelle edizioni non credo neanche di averle io precedentemente ho avuto il DVD italiano e poi il ehm nell'edizione dell'XS tedesca quindi non non lo so se ricicleranno quelle quegli extra lì ok eh però rimanendo sul tema della 88 sì abbiamo veramente tanti titoli tanti titoli non so da cosa vogliamo iniziare io inizierei dall'ultimo che mi hai accennato prima del dell'inizio della puntata che sono molto contento di questa uscita quale quale tentacoli ah tentacoli tentacoli eh tentacoli io ho iniziato mo a fare gli extra di tentacoli eh allora però posso già dirti cosa su cosa stiamo lavorando ok allora ci sarà una lunga intervista a ovidio g assonitis ovviamente deus ex macchina di tutto il progetto regista cosceneggiatore produttore insomma beh eh tentacoli ehm poi avremmo un'intervista a roberto dettorre piazzoli che è il direttore della fotografia collaboratore storico di assonitis spesso anche regista per assonitis occulto eh non in questo caso questo questo film è diretto effettivamente tutto da da ovidio però piazzoli è una figura imprescindibile nella carriera di assonitis insomma non puoi parlare di ovidio senza parlare di piazzoli di dettore piazzoli proprio complementari e e poi stiamo lavorando ad altri extra però non so ancora chi avremmo e in che maniera posso dire però che io sto cercando di creare un pacchetto il più ricco possibile intanto ci saranno queste due interviste una molto lunga assonitis che parla di tutta la lavorazione del film e poi i piazzoli che ovviamente parla avremmo forse qualcuno anche del cast che comunque il film aveva un bel cast non dico anche internazionale il film ha un bel cast ma sono tutti tutti morti nel senso Rifforda Shelley Winters Bo Hopkins Claude Ekins abbiamo Sherry Buchanan si si che stiamo cercando di contattare Dalia Boccardo ahimè come molti forse se sanno non 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 appare in video non vuole essere assolutamente intervistata su nessun film nessun aspetto della sua carriera si è ritirata ormai da tanto tempo a vita privata e non vuole essere disturbata quindi la Boccardo sarebbe stata insomma sarebbe stata molto bello averla ma purtroppo e il cast è quasi tutto americano la quota italiana appartenente al cast appunto è Sherry Buchanan Dalia Boccardo o poco altro comunque avremo un'edizione solo Blu-ray quindi non sarà in 4k però avrà audio italiano quindi questa è anche la bella avrà l'audio assolutamente avrà l'audio italiano avrà l'audio italiano avrà l'audio italiano come abbiamo detto sia zombie o lo caus il terrore e poi avrà l'italiano anche i sopravvissuti a città morta tanto per rimanere in tema anni 80 e poi tra l'altro regista che ho citato prima Antonio Margheriti e i sopravvissuti a città morta è praticamente mala allora non è uscirà in 4k sempre combo pack 4k Blu-ray e da quello che so perlomeno correggimi tu ma non mi pare sia uscito precedentemente in Blu-ray non mi risulta non mi risulta mi sembra una prima uscita non so se è uscito in America però in Europa non mi sembra proprio appunto per cui quindi abbiamo abbiamo i sopravvissuti a città morta dove negli extra abbiamo di nuovo Moriani che è il montatore anche di questo film stavolta Moriani è accoppiato a Edoardo Margheriti che ha lavorato sul film ed è ovviamente il figlio di Antonio ma al di là della parentela è un collaboratore storico aiuto regista regista alla seconda unità direttore di produzione qualche volta anche co-soggettista o scienziatore quindi insomma è un collaboratore strettissimo di Antonio Margheriti oltre a essere il figlio quindi c'è anche lui e poi abbiamo un'intervista ad Antonello Gelen Massimo Antonello Gelen che è il scenografo del film purtroppo io avevo un appuntamento con avevo già organizzato tutto con l'operatore il fonico avevamo scelto la location insomma era tutto pronto dovevo intervistare John Steiner in realtà lo dovevo intervistare per più film e lui avevamo un appuntamento telefonico lui stava in California avevamo un appuntamento lunedì ci eravamo già sentiti più volte per confermare tutto l'intervista era stata organizzata per mercoledì ma lui ha avuto un incidente stradale e poi ha perso la vita qualche ora dopo in ospedale domenica pomeriggio quindi quindi niente a parte il dispiacere il dispiacere io vabbè io John Steiner lo adoro proprio insomma ma non riesco a immaginare un appassionato di cinema italiano di genere che non ami Steiner voglio dire uno che ti fa Goodbye Amen L'uomo della CIA di Damiani Sbatti il mosso in prima pagina L'istruttore chiusa Dimentichi Tepepa Roma Violenta Milano Violenta di Cagliano il Nazi Exploitation di Vino di Silvestro poi diventa il attore feticcio di Antonio Margheriti di Tinto Brass cioè Steiner come dire la sua filmografia è la mappatura del cinema di genere italiano dal 68 quando viene in Italia per appunto per fare Tepepa di Petroni al fianco di Thomas Wilson Wells fino al 91 quando lascia l'Italia l'ultimo film che realizza è Paprika proprio che esce il 91 quindi sì purtroppo Steiner non ci sarà però era tutto organizzato e niente quindi abbiamo Edoardo Margheriti Alberto Moriani e Massimo Antonello Gehring ok poi Gehring è una garanzia Gehring è sempre interessante da ascoltare infatti non ho condivido infatti e poi dovrebbe uscire anche Virus di Lattei esce Virus quindi rimaniamo in tema zombesco Virus abbiamo anche questo è già uscito in Blu-ray per l'IT-8 qui abbiamo un'intervista nuova completamente nuova a Claudio Fragasso un'intervista d'archivio a Claudio Fragasso ok poi abbiamo un'intervista d'archivio ma ritoccata allungata e sistemata quindi c'è c'è della roba inedita dentro a la cosceneggiatrice Rossella Drudi la moglie la moglie di Claudio Fragasso e e poi un'intervista a Margie Newton che è la protagonista femminile ok beh diciamo la protagonista poi insomma a livello di minutaggio è sicuramente la protagonista quindi è un pacchetto discreto sono sono e anche lì ci sarà un commento audio mio per tutta ovviamente per tutta la durata del film stai solo o anche qui in compagnia con in compagnia sono in compagnia anche qui di Troy e Nathaniel Thompson Troy Howard e Nathaniel Thompson e e quindi sì ovviamente in inglese ok perfetto adesso stavo guardando anche un'altra edizione che è appena uscita in commercio ecco qua del film violenza in carcere femminile anche qui hai lavorato tu purtroppo questa è un'edizione senza traccia italiana io l'ho acquistata lo stesso perché comunque amando comunque i contenuti speciali e soprattutto quelli fatti da Eugenio non lo dico perché sta qui ma lui lo sa quando ho saputo che Eugenio appunto lavorava a queste edizioni ero molto contento appunto perché no io guarda sono molto curioso di sapere cosa pensi degli extra perché assolutamente io infatti quando Richard della 88 mi ha detto che non ci sarebbe stato l'italiano mi è dispiaciuto moltissimo perché secondo me tanti cinefili italiani avrebbero apprezzato gli extra abbiamo un'intervista lunghissima ovviamente in italiano a Claudio Fragasso molto lunga nuova completamente inedita poi abbiamo uno speciale curato dal sottoscritto e dallo storico Andrea Meroni su Franco Caracciolo che magari non tutti riconosceranno il nome ma tutti hanno visto Caracciolo sullo schermo era un regista perdono un attore un attore un caratterista alcuni direbbero fino al punto di rendersi di rendersi una macchetta gay che interpretava spesso e volentieri proprio la macchetta gay in tante commedie commedie sexy e appare anche a un ruolo forse tra i più corposi della sua carriera anche nel film violenza in un carcere femminile di Mattei Fragas e all'interno di questo speciale su Caracciolo abbiamo anche interventi di Sergio Martino di il costumista Silvio Laurenzi quindi veramente è un uno speciale importante e credo il primo e unico su Caracciolo scritto video e poi invece abbiamo un'intervista che in realtà io realizzai un po' di anni fa ma che è rimasta inedita a Gianni Leacche che è l'aiuto regista e fotografo di scena sia di violenza in un carcere femminile che di anche altri film della coppia Pragasso Mattei tra cui la vera storia della monaca di Monza l'altro inferno insomma vari film Scalps e Bianca Pascio c'è di mezzo lui e anche qui credo che Leacche non sia mai stato intervistato video chi lo sappia quindi è un pacchetto è un pacchetto ricco soprattutto l'intervista a Pragasso devo dire è molto bella Pragasso parla a ruota libera e racconta senza senza filtri di tutto e di più che poi adesso in mano ci avevo visto che parlavi di Pragasso anche la casa 5 anche qui avevi lavorato c'è una lunga intervista a Pragasso allora qua abbiamo anche un'intervista a Alessandra Lenzi aiuto regista abbiamo un'intervista a Carlo Maria Cordio che è il compositore il compositore della colonna sonora un booklet che che non ho scritto io ma che ho curato comunque io quindi sì no devo dire cioè va detta una cosa non è vero qui non c'è l'intervista a Pragasso perché l'intervista a Pragasso sta sull'edizione Severi non ho sbagliato io scusate però ci sono queste interviste che hai menzionato tu no il la 88 films devo dire sta sfornando tanti film interessanti e c'è da da fare una considerazione che sta riempiendo almeno sul territorio britannico un buco lasciato dalla Arrow questo mi sembra mi sembra evidente che la Arrow stia ancora facendo uscire dei titoli assolutamente tu hai un culo gigante dietro di te forse chiedo scusa andiamo avanti andiamo avanti e e dicevo sta per carità facendo uscire delle robe molto interessanti su questo non ci sono dubbi al contempo insomma bisognerebbe essere ciechi per non rendersi conto che stanno facendo un lavoro anche di riciclaggio in molti titoli lo stesso titolo uscito cioè stesso titolo con più copertine adesso prima Blu-ray adesso 4K repackaging di alcuni vecchi titoli cioè da quando è stata assimilata da Zavi mi sembra evidente che qualcosa sia cambiato all'interno sia dell'organico dell'Arrow che nelle scelte editoriali e che stiamo vedendo un Arrow direzionata verso il puro mainstream tant'è vero che questo magari non è di dominio pubblico ma tantissimi producer in house cioè producer non come me che sono freelance e quindi vengo contattato in quanto producer ma poi mi slego cioè sono contratti a progetto i produttori in house dell'Arrow stanno molti stanno lasciando e stanno trovando case altrove iwan kant che è stato per nove anni dieci anni adesso non ricordo oltre a essere un amico è stato un producer in house storico dell'Arrow adesso lavora per la vinegar sindrome e con lui recentemente ho realizzato i propri contenuti speciali di delirio di sangue e non aprite prima di natale adesso stiamo già lavorando ad altri titoli che però non posso annunciare però molto interessanti e tra altri Francesco Simeoni ha lasciato l'Arrow ha aperto una sua etichetta la Radiance quindi l'Arrow è in un momento di grande difficoltà e la 88 Films giustamente ne sta approfitturando riempiendo questo buco cioè diamoci chiaro due anni fa titoli come Zeder come Virus come Delle Notti del Terrore come Tentacoli sarebbero usciti per Arrow ah beh sì erano titoli da Arrow non da 88 adesso Lady 8 se continua così c'è la seria opportunità per loro di diventare per accalappiarsi quel buco quel mercato lasciato scoperto dalla quindi c'è la possibilità anche di superare l'Arrow a livello proprio di qualità sicuramente sicuramente per il cinema cult sì beh io non ci ho lavorato però è interessante registrare no l'annuncio di il cofanetto dedicato a Pete Walker questo è tra le cose annunciate proprio ieri dalla Arrow dalla 88 ci sta proprio un cofanetto dedicato al cinema al cinema del di Pete Walker questo è una cosa che non adesso diventerà forse così ma fino a poco tempo fa non era un annuncio che ci si ci si poteva aspettare da un'etichetta come la 88 films vabbè sì poi la 88 comunque a parte anche il cinema di genere italiano anche punta al cinema asiatico però lì diciamo che si era già imposta da un po' più di tempo sicuramente anche lo dico con un po' di amaro in bocca ma curavano anche di più le edizioni rispetto ai film italiani spesso come dire io dovevo lottare per avere qualche soldino in più che invece il mio equivalente il mio equivalente di Hong Kong il producer indipendente che si occupava non si occupa più adesso c'è dei cambi ma insomma che si occupava di quei titoli lì aveva senza dover nemmeno proferire parola io dovevo lottare per avere delle cose che lui aveva fatto così in maniera semplice però adesso sta cambiando un paio d'anni a questa parte ho la possibilità di fare delle cose più speciali io lavoravo veramente con dei budget molto risicati quando ho iniziato con la 88 e purtroppo un po' i risultati si vedono perché io veramente non non potevo appunto avere gli operatori che avrei voluto avere non potevo avere i tempi che avrei voluto avere mi sentivo un po' come un uno di come Romolo Guerrieri alla fine degli anni 70 però comunque sono usciti dei progetti cioè dei prodotti niente male ad esempio anche la casa 4 è bella ricca di contenuti extra e anche quello è l'inizio della nuova fase infatti risale a due anni e mezzo quello è il primo titolo dove mi sono reso conto che la 88 films sta facendo le cose sul serio adesso e lì ho avuto i tempi il modo infatti è ricchissimo io mi sono occupato del booklet poi abbiamo confezionato Fabrizio Laurenti Carlo Maria Cordio c'è di mezzo anche Luigi Cozzi e altri non mi ricordo più poi abbiamo confezionato un prima e dopo delle location before and after the location del film sono riuscito a inserire dentro il cortometraggio degli anni 80 di Laurenti di Immigrant no semmai lì io glielo dissi alla 88 che dovevano fare due dischi perché tutta quella roba lì eh ho veramente tanti extra eh Piero Parisi c'era pure un'intervista a Piero Parisi ehm anche poi l'intervista a Laurenti è molto lunga più il cortometraggio sono 40 minuti quindi è quasi un mediometraggio era tanta roba tutta da mettere insieme al film i menu le lingue eccetera tutto sullo stesso Blu-ray forse non era una cosa l'unica 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 pecca di queste due edizioni è la mancanza anche qui dell'audio italiano sia uno che l'altro però però come come c'è capitato di dire il passato dipende ahimè dal anche dalle volontà dei aventi diritto sì che concedono la lingua italiana quello è poi diciamo mi rendo conto per chi non conosce l'inglese questo discorso che sto per fare poco importa però c'è anche da dire che questi due film in particolar modo sono stati completamente girati in lingua inglese inglese completamente cioè a livello a livello linguistico sono film inglesi anche perché non c'è neanche un attore italiano in questi film Linda Blair David Eseloff insomma c'è Cassini Danny Ross no no sono film David Brandon sono tutti tutti attori e attrici che recitano in lingua inglese quindi sì l'IT film sta facendo veramente un buon lavoro secondo me mira mira diventare una sorta di sì arrow forse è meglio dire una vinegar syndrome inglese vinegar syndrome americana una sorta di vinegar syndrome inglese sì sì e anche la vinegar syndrome quindi sta sfornando un sacco di belle edizioni eh sì le ultime a cui hai lavorato ovviamente di cui puoi parlare quali sono? sono delirio di sangue e non aprite prima di Natale ok film estero invece un italiano ok del primo invece come si può dire? allora beh io sono molto contento di degli ex di Blood Delirium abbiamo anche qui un commento audio con me eh sì mi mi stanno chiedendo sti commenti audio io li faccio per carità eh spero piacciano io io non mi posso ascoltare non io non posso ripetere cose in cui appaio io o cose in cui si sente la mia voce per cui non li ascolto non vedrò non ascolterò mai questa roba però spero piacciano no gli extra sono troviamo Brigitte Christensen che è la protagonista del film molti la ricorderanno anche come protagonista cioè come attrice con ruoli anche spesso corposi in Bloody Psycho Nido e il Serpente appare anche però non accreditata in Hansel e Gretel di Simonelli sempre dei Lucio Pulci presenta qui è di fatti la protagonista lo screen time della Christensen supera di gran lunga lo screen time di John Filippo e Cameron Mitchell e lei non è stato non è stato proprio semplicissimo trovarla convincerla a farlo però è venuta fuori un'intervista molto lunga molto corposa lei racconta anche di quel periodo di altri film che ha realizzato sempre horror italiani devo dire io sono molto felice di questa intervista poi abbiamo un'intervista Marco Di Stefano che di fatti in film ha quattro attori diciamo realmente che sono John Filippo Loh Mitchell Christensen e Di Stefano Mitchell e John Filippo Loh ovviamente sono sono morti entrambi quindi abbiamo il cento per cento del cast vivo perché abbiamo Rick e Christensen e Marco Di Stefano che molti anche qui ricorderanno interpreta una delle vittime di Brett Halsey in quando Alice ruppe lo specchio di Fulci il barbone che viene investito e poi è un'intervista in inglese che l'ho visto? pardon? è un'intervista in inglese ovviamente questa non è in italiano a Marco Di Stefano? no no a Christensen a Christensen a Christensen è in inglese sì è in inglese la Christensen è danese infatti ho mandato un operatore proprio a Copenaghen a intervistarla poi abbiamo Marco Di Stefano un'intervista anche molto di Stefano Marco è molto come dire alla parlantina racconta un sacco di cose un sacco di aneddoli è un'intervista molto divertente devo dire anche quella a Big It Christensen è molto divertente e poi abbiamo Corrado Colombo che secondo me è la punta di diamante delle tre interviste un'intervista anche questa molto corposa sono tutte interviste che superano abbondantemente i 20 minuti da Christensen e Corrado Colombo ci aggiriamo intorno ai 40 addirittura e Corrado Colombo è stato l'aiuto regista e collaboratore nonché amico che sono anche frequentati del regista Sergio Berconselli nell'ultima fase della sua carriera proprio tra Delirio di Sangue e Malizia Malizia oggi che sono proprio gli ultimi gli ultimissimi film di Berconselli e Corrado Colombo Corrado è insomma è una persona che sa di cosa sta parlando da un ritratto molto preciso molto bello molto tridimensionale racconta veramente una dimensione sia lavorativa che umana di Berconselli che è molto affascinante da ascoltare poi oltre agli aneddoti sul set i progetti sfumati in quel periodo che Berconselli non ha realizzato per cui devo dire è una gran bella intervista ok quindi insomma a livello di edizioni davvero non c'è che rimbarassero la scelta tra questi che abbiamo già menzionato Cannibal Holocaust in 4K insomma nei prossimi mesi tra 88 films e varie etichette sia quella americana appunto della Vienegaard e poi non abbiamo menzionato questo vediamo ah e beh sì Bacterion 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 Panic con la K in Germania e che esce per la Nolis anche questa è una etichetta particolare è bella interessante la Nolis fa cose molto 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 pregiate devo dire questa è una è una gran bella edizione di un film assolutamente delirante ma talmente assurdo che forse fa il giro anche se a me diverte meno rispetto ad alcuni dei film che abbiamo citato tipo Zombie Holocaust o Virus però sono molto contento degli extra di questo film perché è stato un film molto difficile questo per cui realizzare gli extra però abbiamo un'intervista a Adriano Carboni e tu dirai chi è Adriano Carboni Adriano Carboni è il figlio di Rino Carboni che è stato per esempio a te ti è mai capitato nei titoli di coda di un film italiano di vedere Rocchetti Carboni Parrucche Rocchetti Carboni faccio che ti è sicuramente capitato Rino Carboni è stato un truccatore è stato un truccatore ed effettista italiano molto importante che ha lavorato con alcuni dei da Pasolini a Fellini hanno fatto sbagliati i film di Fellini è stato anche effettista ed è colui che ha fatto gli effetti speciali nonché ha creato ha concepito creato e realizzato il mostro che vediamo qua in copertina ha realizzato il mostro insieme con l'aiuto di un giovanissimo Adriano Carboni il figlio quindi che stava sul set e che poi è diventato un effettista lui stesso quindi abbiamo un'intervista a Adriano Carboni poi un'intervista a Roberto Ricci che è un altro figlio di lui è il figlio del regista di questo film Tonino Ricci che è regista di una nel guerriero di vuoto di memoria completamente la notte degli squali con Trey Williams indagini su un delitto no indagini su un delitto perfetto insomma ne ha fatti tanti e poi una serie di post apocalittici con Bruno Migniti a fare tra cui Rashi insomma vabbè ne ha fatti tanti Roberto Ricci che è diventato poi un anche lui un effettista e che ha tuttora lavora lavora ed è anche insomma molto prolifico Roberto Ricci stava sul set di questo film ha lavorato ha dato una mano al padre ma soprattutto è il mostro è il vero protagonista è colui che interpreta il mostro del film dietro agli effetti speciali di Rino e Adriano Carboni ci sta Roberto Ricci poi abbiamo io mi sono fatto dare da Stephen Trower che molti conosceranno come storico inglese molto appare tanto anche lui negli extra mi sono fatto dare un pezzo anche molto lungo devo dire pure qua stiamo ben oltre i 40 minuti un pezzo di una sua intervista a David Warbeck è un'intervista cioè se tu vedi il filmato sembra un recupero da non lo so di Pompei cioè è ridotta malissimo l'intervista il filmato è terrificante abbiamo fatto il più è un'intervista che risale al 92 92 93 no 93 94 quindi figure io avevo dieci anni quando Stephen Trower stava intervistando David Warbeck abbiamo quindi è molto vecchia però abbiamo cercato di restaurarla con i risultati cioè il video sai si può fare si può fare sempre qualcosa ma insomma se i filmati sono qui il materiale si è rovinato è che ti puoi inventare più di tanto però insomma abbiamo e comunque David Warbeck è un documento importante per cui abbiamo David Warbeck Roberto Ricci Adriano Carmoni ottimo ottimo non vedo l'ora di poterlo vedere un film come Bacterion che già tanto che è uscito che era già uscito tra l'altro per la che era Code Red era già uscito negli Stati Uniti ma senza extra zero ok in Germania ti esce addirittura con tre varianti diverse insomma uno può scegliere tre copertine diverse abbiamo tre copertine diverse ed è un è un media book è un media book e tra l'altro ha due versioni del film perché ha la versione americana e la versione tedesca quindi sono due dischi ok quindi pure doppio disco quindi è pure doppio disco vediamole un po' abbiamo questa che riprende più o meno la 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 locandina italiana si poi abbiamo questa che credo sia una replica della locandina tedesca e poi abbiamo questa che credo credo sia custom ma potrei anche sbagliare la più horror diciamo delle tre è la più horror è che forse riflette anche meglio un film in questione e quindi sì è veramente un periodo è un periodo ricco per le uscite sicuramente meno ricco per i portafogli assolutamente infatti quindi ahimè ci saranno un bel po' di prodotti da acquistare per non solo per l'inizio del prossimo anno ma per il titolo che ho sentito in genere tutto il 2023 è particolare e posso fare prima di lasciarci sì posso fare un piccolo annuncio ma sì vai che tanto ci arriveranno subito non dico l'etichetta non dico quando ma all'inizio dell'anno prossimo uscirà un film in un'edizione molto molto curata un doppio disco eh con parecchi contenuti speciali di un film di Mario Landi ok qua aspetta no non mi viene in mente quale può essere aspetta uno va a vedere ti chiederei aiuto al pubblico ma siamo non siamo in diretta uno va allora ti dico Mario Landi ha diretto ehm Button Story le impiegate stradali Gialla Venezia Patrick Viva Ancora eh il commissario Megretti televisivo con Gino Cervi ehm Patrick Viva Ancora è già uscito di recente di recente l'anno scorso per la Severin quindi questo mi sa che lo scludo non penso che sia questo vabbè non te lo non ci puoi dare risposta quindi lasciamo nel dubbio chiaramente voi commentate doppio disco pieno di contenuti speciali con un master nuovo attenzione con un master nuovo di un film di Mario Landi ok va bene quindi commentate magari dite voi quale potrebbe essere il titolo io mi sento non so perché mi sento di escludere Patrick Viva Ancora comunque eh no vabbè adesso stai parlando di dicevi posso dire di più vai l'anno prossimo esce anche il sequel in un'edizione pazzesca devo dire c'è una roba io ho messo insieme almeno tre ore di contenuti speciali il sequel di una saga horror americana uscirà in un triplo disco cofanetto di una saga horror americana non c'entra niente l'Italia esce un seguito il numero due il capitolo numero due di una saga horror di una serie horror che vanta tre film quindi c'è l'originale poi due sequel e poi un remake esce il sequel il primo porco giusto aspetta non mi fai non mi fai dormire stanno ti lascio ti lascio con questo dubbio vabbè non mi lasci con questo dubbio va bene ad ogni modo perché adesso parlavi di un annuncio io pensavo che volessi parlare di quell'altro annuncio della nostra prossima puntata che poi vediamo se sarà la prossima la prossima ma volentieri vai vai dillo tu Eugenio no 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 l'onore a te il padrone di casa si parlava nella scorsa puntata appunto di fare una una nuova diretta dedicata al cinema di Luc Merenda del grande Luc Merenda e infatti Eugenio parlava che ci sarebbe potuta essere la possibilità di avere Luc Merenda come ospite d'onore della puntata e a quanto pare Eugenio ci è riuscito quindi ha convinto vero? assolutamente sì assolutamente sì Luc è felicissimo di partecipare e organizzeremo per la prossima puntata anche un incontro con lui e sarà una puntata serale anche per il mondo sì una puntata serale e se la facciamo live potrete fare le domande a lui perfetto vedremo poi la durata della partecipazione comunque di Luc Merenda comunque sarà presente a questa a questa puntata quindi mi raccomando tenete sott'occhio sempre la pagina Facebook che vi lascerò le varie news lì senti Eugenio prima di chiudere questa puntata torniamo un po' all'inizio quindi sempre alla questione del cinema B-movie degli anni 80 abbiamo parlato di quello italiano però anche quello americano c'è stato ci sono stati certi artisti viene in mente sempre Sam Raimi con il suo Evil Dead che con davvero pochissimi soldi ha creato un film che a distanza di 40 anni non ha perso diciamo non ha perso nulla anzi viene ricordato volentieri ancora anche tramite i vari fan fan club eccetera quindi volevo un pensiero da parte tua sul cinema sì ma allora il cinema il cinema horror americano degli anni 80 è estremamente vivo se da una parte perde le ragioni di qui sopra all'inizio abbiamo parlato perde un po' il suo la sua aggressività se vogliamo politica sociale perché voglio dire da la notte dei morti eventi di Romero passando per non aprite quella porta ai Hooper passando ai primi film che non sono americani sono canadesi di di Cronenberg come il demone sotto la pelle Rabbid ma anche poi altri film lo stesso Halloween nel 78 di Carpenter e altri film di Romero come per esempio penso a La città verrà distrutto all'alba tutto quel cinema anche il cinema che si vivono anche no? sì no ma riferendomi esclusivamente al cinema degli anni 70 ok scusa sì quindi anche di Craven anche l'ultima casa sinistra dove i conini hanno gli occhi c'è tutto quel cinema tutto quel cinema ha una coscienza politica e sociale molto forte è un cinema la sua forza la forza di propulsione è proprio raccontare lo stato degli Stati Uniti questo viene a mancare negli anni 80 viene a mancare è qualcosa che non figura nel cinema dei nuovi registi penso a Stuart Gordon a San Brahimi ma anche a registi come dire meno battuti magari no? Kevin Eschini o poi Brian New beh Brian New ne fa eccezione in realtà a Society però appunto ci sono dei registi che ancora soprattutto quelli della generazione precedente che mantengono quella coscienza politica penso per esempio tu giustamente ci tavessi vivono di Carpenter o anche Romero con Il giorno degli zombie però cosa abbiamo? Abbiamo il decennio degli effetti speciali che diventano quasi sovversivi cioè c'è un c'è un tentativo di di superare il film precedente di creare qualcosa di assurdo e per la prima volta forse nella storia del cinema gli effettisti diventano dei divi cioè diventano le vere rock star del decennio adesso se uno dovesse dire dimmi un effettista americano nato negli ultimi artisticamente nato negli ultimi vent'anni maggior parte le persone che ti dice non 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 ci sono nomi a appellarsi negli anni ottanta Rob Bodine Rick Baker Tom Savini Tom Savini Steve Johnson ehm cioè tutti i figli di Dick Smith perché poi il vero padre insomma il padre del del degli effetti speciali moderni è Dick Smith che con l'esorcista con eh l'invecchiamento di Dustin Hoffman in Piccolo Grande Uomo di Arthur Penn ha fatto storia tutti questi figli di Dick Smith alcuni dei quali nati cioè hanno iniziato a lavorare come Baker o anche Tom Savini negli anni settanta ma che negli anni ottanta veramente realizzano esploi incredibili diventano dei divi eh cioè Rob Bodine tu vedi un film con gli effetti speciali Rob Bodine e noti la firma cioè proprio la firma di Rob Bodine tu tu lo lo riconosci Steve Johnson lo riconosci Rick Baker è riconoscibilissimo cioè gli effetti speciali erano veramente qualcosa che portava portavano la firma di chi le aveva realizzate questa cosa piano piano nel negli anni novanta si è persa gli effetti speciali sono diventati anche più sofisticati a certi punti di vista cambiata la tecnologia tutti i discorsi triti e ritriti che sappiamo ma si è perso la personalità di chi le le ha realizzate cioè Rob Bodine era veramente un genio se uno vede Robocop o vede la cosa di Carpenter a cui ha partecipato marginalmente anche Rick Baker ma insomma Rob Bodine atto di forza di polvero cioè questi film veramente avevano una personalità fortissima legata soprattutto agli effetti speciali quindi è veramente un decennio speciale da quel punto di vista scusa il gioco di parole speciale effetti speciali però è un è veramente un decennio incredibile a quel punto di vista poi io ce ne sarebbe o tanti ne rimangono alcuni cioè a parte molti di questi continuano a lavorare anche se alcuni hanno lasciato perdere proprio il mercato che cambia alcune persone esito hanno estromesse no il leitmotiv di questa puntata Rob Bodine per l'appunto che ho stracitato ha lasciato non fa più nulla anche Chris Wallace l'altro grande effettista degli anni 80 Gremlins partecipa a Salto nel buio di Giudante insomma è stato è stato anche un effettista più volte per David Cronenberg è quello che ha realizzato gli effetti speciali della Mosca anche lui ha ridotto e lavora ai margini è un'industria che cambia è che non tutti si vogliono possono adeguarsi e quindi gli anni 80 ricavano per sempre i grandi il grande decennio il decennio più grande per gli effetti speciali esatto e la casa che entra all'interno di questo discorso certo va bene Eugenio io direi che possiamo concludere qui questa questa puntata dedicata al B-movie anni 80 e niente magari la prossima puntata noi vediamo se sarà tu pensi che sarà già la prossima puntata con con Luke o la prossima ancora comunque penso che tra qualche settimana io direi che sì io io penso che sarà la prossima se non è la prossima è più la dopo perfetto ok quindi niente ci ci aggiorniamo chiaramente quindi vi auguriamo un buon proseguimento grazie la puntata appunto ripeto non è in diretta quindi se volete potete recuperarla tranquillamente nella playlist e ringrazio nuovamente Eugenio per essere stato tu non devi puntare il dito sotto e dire scrivetevi invitate di solito i youtuber fanno così io io non insisto se vogliono si iscrivono se piace si iscrivono automaticamente quindi non insisto vai mi piace questa questa filosofia sì sì no comunque iscrivetevi qua sotto c'è il tastino quindi mi raccomando iscrivetevi va bene va bene grazie Eugenio ciao a tutti